Musica Televidenti e buon venino a tutti i giorni di Time Out. A tutti i giorni di Time Out con noi, un gran notte, un tutto con noi, un di baluarte nel nostro mondo di baseball, a tutti i giorni di Time Out. Un di buon pinche quando noi stiamo conosci del mondo di baseball, quando si riferisce a Don Elias Koch, con chi noi ci si bella converse, arriva un par di cose che, che si passano recentemente, però noi stai conosciuto. Eccoci a tutti i giorni di Time Out, un corto sentito che io ci siamo tornati a parlare con Don Elias Koch. Grazie a tutti. 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 e... e... ... 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